Benvenuti nel mondo degli orologi Volna. Volna fu un marchio russo di orologi da polso, fondato nel 1957. La casa orologera russa fece parte della Kistopol Watch Factory, un gruppo di marchi di nicchia che collaboravano per la produzione di orologi meccanici. Nel 1964, Volna si interruppe a causa della consolidazione di tutte queste piccole aziende sotto un unico marchio, Vastok. Fino a quando nel 2006, gli orologiai Eleonore Pachou e François Candolfi, entrambi con esperienza in aziende prestigiose come Audemars Piguet e Lionato, acquisirono il marchio Volna, portando all'azienda una combinazione di eredità russa ed esperienza svizzera. Le nuove collezioni di orologi Volna sono particolarmente innovative e sofisticate, e si ispirano ai sottomarini e ai sistemi d'arma russi. Ma non è solo il design russo a farla da padrone, ma anche l'artigianato svizzero di alta qualità e la tecnologia più avanzata. Ogni orologio è un'opera d'arte unica, realizzata con materiali pregiati, e dotata di movimenti svizzeri di precisione. Volna ha collaborato anche con diversi designer per creare collezioni innovative e artistiche. Una collezione molto nota è la Volatomic, una gamma di segnatempo realizzati con il designer russo e proprietario dell'azienda Artia, Ivan Arpa. Questa collezione si ispira al design delle centrali nucleari, in particolare ogni orologio presenta sul quadrante i colori giallo e nero, teschi con ossa, e nella maggior parte dei casi un omino con una freccia, simbolo di uscita di emergenza. Il nome Volna significa onda in russo, e richiama l'idea dell'incessante movimento degli oceani, simbolo di eleganza e fluidità, caratteristiche principali del marchio. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che rappresenti il perfetto connubio tra eccellenza svizzera e design russo, la collezione di orologi Volna è sicuramente da prendere in considerazione. Grazie. 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 Grazie.